Il dito medio ad un paparazzo Belen Rodriguez fa il dito medio ad un paparazzo Belen furiosa fa, di nuovo, il dito medio ad un fotografo. Belen Rodriguez in seguito alle vacanze di Pasqua passate con la sua famiglia in una tenuta in Toscana è tornata a Milano per fare un po' di shopping. Stando a quanto scritto dalla rivista femminile Diva e Donna la showgirl argentina avrebbe dedicato la sua giornata soltanto alle donne della sua vita, ovvero sua sorella Cecilia e sua mamma Veronica. Le tre donne avrebbero voluto trascorrere in tranquillità le loro spese in giro per le vie milanesi, quando però si sarebbero accorte di essere inseguite dai flash dei paparazzi ingordi di gossip. La conduttrice di Tosicuevales, per difendere la propria privacy e quella della sua famiglia, avrebbe cacciato a malo modo i fotografi, mandando tutti a quel paese attraverso il dito medio. Il gestaccio rivolto ai paparazzi è stato però immortalato attraverso uno scatto che è finito tra le prime pagine del giornale di gossip. Ingiustificabile il gesto della Rodriguez, la quale dopo tutti questi anni dovrebbe essere abituata all'inseguimento da parte dei fotografi. Tuttavia, questa sarebbe un'eccezione, stando a quanto raccontato dai paparazzi infatti la fidanzata di Andrea Iannone sarebbe apparsa nervosa già da prima dello scontro a distanza tra lei e i fotografi. Belen Rodriguez fa un gestaccio ad un paparazzo. Belen è tornata a far parlare di sé dopo aver trascorso un bellissimo weekend allungato insieme all'amore della sua vita, la sorella, Ignazio Moser, la mamma Veronica, suo fratello Geremias e ovviamente suo figlio Santiago. La famiglia Rodriguez ha riempito in questi giorni i rispettivi profili social di foto e video fatti in una splendida tenuta in Toscana in cui Belen e famiglia hanno trascorso la Pasqua in relax. Qualcosa però potrebbe essere andato storto tanto che durante l'inseguimento di alcuni paparazzi la showgirl ha reagito veramente male. Non è la prima volta che la bella conduttrice finisce al centro di simili bufere. Durante l'estate scorsa, per esempio, la Rodriguez, dopo essere stata infastidita mentre cenava, si era messa a lanciare limoni contro i paparazzi, mentre non pochi mesi fa. Poco prima della sua partenza per gli Stati Uniti, aveva cercato di proteggere la propria privacy e quella del suo Andrea dagli scatti dei fotografi mostrando anche in quel frangente il suo dito meglio. In quell'occasione l'ira di Belen era stata provocata dall'intromissione dei paparazzi nel momento in cui voleva salutare il famoso motociclista attraverso un tenero bacio. Grazie a tutti!